ciao elena abbiamo iniziato per rosetta ciao te l'ho anche detto con la giusta addizione rosetta 5 4 3 2 o di se vedo rosetta in questo posto è come se fosse un grosso salone dove c'è questa specie di c'è questo specie di bancone circolare rosetta e mezzo ok e ci sono tanti settori tanti scaffali diciamo tanti posti diversi dove ci sono delle ci sono tipo dei biscotti oppure delle pastiglie dei tranci di qualcosa così e tutte queste cose sono la cosa giusta che ogni persona deve mangiare per fare il suo percorso quello che rosetta vuole vuole trasmettere no è come se le fosse l'esperta di queste di questo cibo che non è cibo normale ma è l'estratto di qualcosa che ti può far qualcosa di spirituale che può andar bene per una persona per un'altra e quindi c'è tutto questo flusso di persone in coda a cui rosetta da quello che secondo lei è giusto per quella persona quindi arriva uno di da tipo un muffin di reiki oppure arriva natoli da una fetta di insomma viene campane tibetane no oppure gli da una pastiglia di human design non so ok quindi sono tanti di queste cose ogni persona che arriva lei gli da quello che secondo lei è quello che serve con la persona città l'autorizzazione sì l'ebrazione 21 miliardi per cento anni di consapevolezza 136 anima in 37 vite precedenti 2.546 cervello 9.4 ok chiediamo all'anima di rosetta se questo è il suo grande giorno dice uno dei miei grandi giorni in un grande giorno uno fa grandi cose se lei è pronta a sentire domande di tutti i tipi anche scomode se ok questa è l'anima la p e stessa domanda si è pronta come se avesse il dubbio di non essere pronta poi ad agire e dice boh mi affiderò alla ps il mentale corpo mentale di rosetta è un po' cioè si è contento di di consapevolizzare delle cose di vedere delle cose di avere alcune risposte che potrebbero essere un po scomode nel senso che sa che dovrà fare un po di fatica per resettare diciamo la la sua modalità di comunicazione ecco però ci vabbè vabbè fisico no prima domanda scomoda causa esoterica della scarsa capacità di sintesi allora c'è questa entità mentale di livello 3 che fa sì che rosetta quando inizia un discorso inizia il discorso con una persona più persone quindi focalizzata sul sulla situazione nel momento in cui inizia il discorso questa entità mentale come se la la isolasse con un enorme schermo che le gira tutto intorno e su questo schermo passa il film di quello che lei sta dicendo e quindi è come se lì lei si sentisse in esigenza e in dovere di spiegare i particolari del film che passa quindi come se perdesse il contatto con la situazione 3 sì altra entità mentali ce n'è una di livello 5 allora lei molto consapevole soprattutto da quando segue noi che molte cose che ha seguito anche in passato che sta seguendo ora sono fonte di interferenza ok nel consapevole ma fino a oggi questa entità mentale di livello 5 è riuscita a far sì che lei nel momento in cui gli si presentano alcune cose che consciamente sa di essere che potrebbero portarla ad interferenze sentita mentale di livello 5 fa sì che lei si dimentichi questa cosa no come se si lancia su quella cosa lì e sparisse l'informazione ci possono essere interferenze a volte succede così a volte succede che lei che questa entità mentale di veloci in quella convinca che lei è in grado di isolare tutto e in quel momento in quel momento in quel modo lì c'è si sente completamente protetta la fa sentire completamente protetta la 5 poi basta mentali pasta e te riche c'è una mantide potrei direi un militare anche se è vestito da con la specie di divisa che hanno sei quelle specie di soldati sulle navi di star wars quelli bianchi ok si con un militare col casco dove si tirano che militare di che tipo di quale paese paese o pianeta io li collego a sirio perché mi è arrivata proprio l'informazione come se ci fosse dietro un'interferenza del tipo tutto ci sono molte cose in questo mondo che non ti fanno respirare ma perché come se riescono a nel fisico proprio a fare fare del far sì che rosetta si trovi in situazioni dove a livello fisico a delle interferenze fisiche nel senso gli arrivano delle informazioni per far sì che lei creda che magari un cibo sia contaminato no ok e se lei mangia quel cibo anche se non è così se le mangia quel cibo fa sì che abbia una relazione fisica in maniera tale che lei creda che abbia la prova che quella cosa lì sia contaminata per esempio oppure può essere con una l'acqua di un posto oppure l'aria di un altro posto è come se le volessero mettere ecco dire così mettere paura cercano di mettere paura rispetto al all'ambiente e alla situazione del momento questi sono i militari seriani poi vabbè c'è l'avanti del che si collega l'entità mentale e poi c'è un leonide un leone e di al 2 progetto nome intossicazione di parole in questo vogliono mettere tutto tutto allora a livello energetico allora come ti descrivo perché sennò allora durante le abduction loro fanno sì che a lei arrivino due entrino due informazioni diverse una per che abbassa mantiene le vibrazioni basse in alcune circostanze appunto verso l'ambiente ok in maniera tale che lei abbia dei sintomi rispetto ad alcune cose e dall'altra parte invece che arrivino delle vibrazioni basse collegate ad alcune frasi o parole che la fanno vibrare e passa nome della piessa giglio della pie giallo ok causa esoterica di una discreta più che discreta anzi buona vibrazione iniziale 21 tendenzialmente lei di suo a molte emozioni che vibrano alto quindi allegria buon umore divertimento e serenità e per questo devono cercare le interferenze di trovare di fisco e materiale per per portarla verso emozioni a bassa frequenza e negative ok quindi in questo contesto della della nostra sessione lei era di brava molto alto perché era molto direzionata verso le vibrazioni alte che devo che agiva molto con la ps ok andiamo alla meditazione trascendentale la praticata e in una di queste meditazioni di gruppo se non erro sente che sta arrivando il potere universale ma non si sente pronta e quindi lo rica lo ricusa e se non ho capito male e nulla è più successo sì allora diciamo che lei ha creduto così perché grazie all'entità mentale di livello 5 insieme sì in realtà quindi l'esperienza è stata buona nel senso che la ps che è riuscita in quel momento lì a isolarla da una grossa interferenza che c'era in quel momento erano tutte persone molto brave ad alzare le vibrazioni e hanno creato direi un enorme flusso attrattivo di energia ok ed è come se su di lei si stesse scaricando tutto questo enorme flusso che erano le interferenze ok la ps lì è stata brava è riuscita a bloccare questa cosa ma l'entità mentale di livello 5 ha fatto sì che lei credesse di non essere stata all'altezza per ricevere invece la massima energia buona di migrazioni alte quindi è poi legato a questo vedo che poi altre volte con questa diciamo con questa idea in mente ha ricercato altre situazioni per provare ad avvicinarsi pian piano a quell'esperienza nuovamente chi è inventato la mt è arrivato un signore con i bassi con tantissimi capelli tu ce l'hai con quelli senza tanti capelli no assolutamente no ma è interferita la mt sì ma è interferita sempre per il solito motivo perché crea delle dei portali dei canali dei corridoi di nerti apertura energetica dove le interferenze ci ficano subito il naso soprattutto alle persone non consapevoli quindi ne abbiamo bisogno no assolutamente ne ha bisogno qualcuno ne ha bisogno qualcuno per fare il percorso di consapevolezza e farsi e prendere le interferenze da questo quindi alcune ps scegliono con il percorso di per avere quelle interferenze sperare quelle interferenze una e rosetta allora fino a fino a qualche tempo fa si prendeva le si prendeva le interferenze senza esserne consapevole ad essere consapevole che possono arrivare alle interferenze ma le sue interferenze sono riuscite ancora un po boicottarla fino ad oggi facciamo una domanda diretta d'emblee con risposta secca domanda secca risposta secca la ps proprio quello che ti viene subito se chiediamo la ps di rosetta tu chi sei fluido energetico ok andiamo adesso a quei sogni che rosetta vuole condividere con tutti i bambini del mondo quei sogni in cui lei si vede bambina c'è una guida un signore che insegna tutti i bambini come lei insieme a mette sacra le tour del pensiero tutte delle basi nozionistiche di una scuola ideale spirituale e questo aspetta questo però ti è successo da piccola no perché poi appunto eri delusa si esatto era delusa andando nella scuola vera una scuola diciamo materna o dell'obbligo diciamo che non venissero insegnate queste cose beh è successo è una vita parallela ed è la stessa che mi ha fatto vedere all'inizio quella vita parallela lì su un'altra linea temporale si da bambina era la che imparava e adesso la rosetta che agli stessi seta che acqua è distributrice di questo cibo informazionale sì c'è una cosa però lei diceva che voleva mandarlo a tutti i bambini del mondo no questa conoscenza solo che ci sono di appunto delle informazioni che non sono proprio salutari nel senso che molte aprono canali dove le interferenze possono venire ad agganciarsi quali informazioni per esempio hanno questo senso e allora vabbè possiamo adesso le prime sono minuti menti sono vecchi e considerazioni familiari human design già prima l'ho visto mt tutte quelle allora direi tutte quelle pratiche possiamo chiamarli esperienza quelle esperienze spirituali pratiche che sono esclusivamente energetiche e non nella matrix perché vedo che se tu fai yoga dinamico non c'è problema se fai kinesiologia non c'è problema ci sono delle cose che lavorano proprio sulla sulla materia e quindi sul corpo sulla materia e quindi non hanno questo canale tutte quelle cose di questa cosa qui quelle che lavorano su un piano solo energetico non sono pericolose o negative sono difficili da gestire e siccome non è che siamo proprio così spirituali come come periodo storico né noi occidentali né tantomeno gli orientali o altri forse mi lascia perdere o meglio valutarle tante volte prima di affidarci sì esatto esattamente sì 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 diciamo che questo almeno sul discorso la mia idea poi se ok quindi lei è in un'altra linea temporale a una rosetta in un'altra linea temporale c'è ne solo una quindi sono due le rosetta ma ce n'è un'altra tra questa che linea temporale per rosetta l'autuale a 1 poi c'è la 2 c'è la 3 anche la 2 e che cosa fa rosetta come è uguale a questa se la vedo sì molto simile i capelli però molto più lunghi e raccolti e più sì molto simile ma appunto con questa caratteristica e capelli più lunghi e raccolti sì più non so come descriverlo diciamo che qua al suo modo di parlare comunicare no rappresenta molto la sua apertura apertura verso gli altri poi mi viene da dire così mentre lì è più più contenuta potrei dire più contenuta anche nell'atteggiamento e nell'aspetto va bene dodicesima vertebra della colonna vertebrale anche qui fa degli esperimenti coinvolge la figlia viene toccata questa dodicesima vertebra che più o meno la metà a seconda che ci siano 24 25 a seconda di varie interpretazioni crea cose quando se non ho capito male le viene toccata questa dodicesima vertebra lei sente che può creare delle cose lo vede sì allora vedo proprio che come se fosse nella dodicesima vertebra è come se venisse quando si tocca come se venisse messo un perno no e rosetta diventa come una trottola quindi quello è il perno che va per terra dove la trottola inizia a girare è come se venisse centrifugata ok vedo entrare in questo spazio quando inizio quando inizia se centrifugata diventa tutto bianco di colpo ok e lì in questo spazio lei può predisporre l'energia per creare le cose quali cosa sono più che specifiche sono più come dei macro argomenti no come se io vedessi che lì lei può preparare il terreno diciamo per per quella cosa o quell'argomento che deve fare nel momento in cui si è ritrovata ad entrare qua quindi un esempio stupido è devo che ne so devo andare in un posto in una città vicina la macchina dal meccanico gli orari del treno non coincidono devo creare una maniera un modo per andare in quel posto quell'ora lì e quindi come se avesse il pensiero noti sistemare una certa situazione o una certa cosa è come se in quel momento le entrasse in questo spazio e da lì riuscisse a creare le condizioni per arrivare al suo obiettivo quello che posso dire è che è un po' deviata la sua creazione nel senso che è come se riuscissero a fare sempre queste entità mentali riuscissero a farle credere che lei li può creare così quindi fa non può creare quello che lei desidera ma in maniera un po deviata nel senso che l'ideale magari sarebbe dritto invece la fanno andare un pochino più in qua no per esempio e quello che adesso oggi può consapevolezza rosetta e che non ha bisogno di andare in quello spazio può farlo senza mettere in campo tutte queste energie può creare quello che vuole e di cosa ha bisogno rosetta di esterno di niente l'interno la centratura con se stessa e quindi con la sua ps ok stessa domanda fatta prima la ps di rosetta la signora giglio perché si chiama giglio identica tu chi sei dio già arrivata la seconda speravo qualcosa da un po più avanti ok dodicesima vertebra la cattedrale di shop hanno indicazione anche qui tante tante esperienze talmente tante che anche io non mi sono un attimo perso comunque boh mi sembra una meditazione le deve andare alla catena di sciata ci va in francia con un'amica e lì a una forma di estasi che tra l'altro crea anche una forma di gelosia tra gli astanti che vorrebbero tutti avere l'estasi allora detta proprio terra terra sì 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 tu sei cattolica rosetta sì o no sì no no allora la cosa è che molte chiese soprattutto queste questi tipi di chiese sono state costruite sopra a punti energetici molto potenti e molte di queste chiese cattedrali c'è sempre una mattonella dove se tu ti metti e sei in grado di aprirti completamente senti veramente questa cosa forte enorme che ha sentito rosetta il problema è sempre lo stesso che soprattutto in questi casi qua si aprono dei canali assurdi e sono proprio solo lì ad aspettare di poter prendere l'energia interferenza che è successo quel giorno energeticamente parlando a rosetta se lei ha sentito un canale energetico enorme fortissimo e è entrato uscito qualcosa sono entrati hanno giucciato e poi sono usciti nel suo caso in quel momento lì e così anche con l'amica perché era proprio in quel momento li hanno fatto in quell'occasione hanno fatto così ok lei è entrata quanto vibrava è uscita quanto vibrava l'amica sono percorsi suoi è arrivata vibrare a 15 mila miliardi rosetta no però voglio capire cosa le hanno tolto quindi vuoi capire quanto all'ingresso quanto aveva luce ma scusa poi se l'hanno portata 15.000 in qualche con qualche tecnologia o che per poterle poi togliere di tutto nel senso allora entrata con 47 miliardi è uscita 987 milioni qualcuno direbbe ma noi la ricreiamo perché oggi è tornata a 21 miliardi rosetta quindi perché non dare questa frequenza qualcuno ha detto non dare questa frequenza alle entità hanno anche detta sì sì perché non dare queste frequenze l'entità poverine e io rispondo perché l'entità sono dei programmi primo e secondo se crede essere un permesso uno può decidere se invece è permesso si lo devono chiedere ma con il sottoscritto esatti facendo sentire rosetta una prescelta che deve andare a una catena dicendole che sarà la nuova bernadetto non sa che cosa dicendole con cui utendola perché ci saranno delle cose meravigliose da vivere e in effetti lei ne ha vissuto una meravigliosa poi dopo anni si fa una domanda e porta a questo punto questa questione come un punto da sondare se esatto ha regalato tutta la sua di allora energia a dei programmi ok che cosa c'è un'altra cosa che posso aggiungere se lei non ha se si è vero poi la ricreiamo ma dobbiamo ripartire da nel suo caso da 987 milioni ok quindi con quelle vibrazioni basse che tendenzialmente creano emozioni negative e quindi già tendi a stare basso quindi poi rialzarle da lì per arrivare a un buon livello se lei invece fosse rimasta a un livello alto allora prima di tutto non aveva l'abbassamento delle vibrazioni quindi meno emozioni negative e poi sarebbe partita da quel livello lì si c'è un po di alto e basso però comunque tendenzialmente uno vive a quel livello lì e quindi è sempre meglio ecco da un danno c'è un danno c'è un perdita di tempo esatto fatica c'è o non esiste che un furto si rallentano ma sono tutto un furto cosa c'è nella cattedrale di chartre oltre a un energy lines o energy lines allora c'è sotto no soprattutto adesso si stanno sotto stico vedo io sotto c'è come un c'è tipo un insegnatura nel terreno sotto e vedo che come se ci fosse un una bolla nel terreno direi fatta quasi artificialmente quindi fatto in modo che rimanesse così con una concentrazione molecolare molto intensa perché non la chiamerei vibrazioni alte ma la chiama direi che è proprio come se ci fosse una compressione di molecole tenute tutte insieme che vicino in questa specie di bolla nel terreno roba da deep state cioè allora come se indirettamente non vedo posti dove fanno ritio che lì sotto ma è come se indirettamente questa bolla fosse stata creata per scopi loro è come se servisse poi più avanti nei loro programmi a il futuro si con un accumulatore di molecole ma tutto il progetto catenale di chartre da chi è stato voluto tra le entità che abbiamo visto la mantide insieme alle due entità mentali anche scopo e militari e militari e quindi si prelievo energia e basta o anche testare la capacità di obbedire di rosetta più la l'influenza più che la capacità di obbedire vedo la come si dice quando prendi le persone raggirate ecco più la tendenza essere raggirati ecco diciamola ok ennesimo meditazione guidata da una persona una donna mi sembra lei vede 2 la propria ps e riceve due sfere rosse che succede mi viene da dire così cosa se ne deve fare di due sfere che arrivano dall'esterno ma chi lo dice chi lo dice nel posse no 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 no停 c'era ps adesso col samen di poi era lei alla rosetta sì 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 era lei ma le accettate le sfere dall'esterno cioè cos'è subliminale che mette alla prova il mentale si mette alla prova da so si è come se avesse preso accettato l'interferenze settici o di prima per dimenticare la quella parte lì di consapevolezza e quindi si immedesima nell'accettare delle cose dall'esterno un aiuto dall'esterno per poi vedere l'effetto che fa tra virgolette e consapevolizzare che non ci serve niente dall'esterno anzi che a volte ma ci parte delle volte può essere dannoso è strano questa pièce dice più che strana è che ho fatto l'esperienza adesso consapevolizzato l'esperienza va bene questa è l'analisi abbastanza insomma fa cadere le braccia no e povera rosetta ha fatto tante esperienze ha delle notevoli capacità nel sentire fuori dal comune però praticamente è stata ingannata in primis da se stessa cioè dalla ps che deve fare esperienza ormai siamo abituati a questi discorsi alla fine la ps siamo noi e noi siamo qua per fare esperienze non ce ne frega più di tanto né dalla parte fisica né della sofferenza né dalla perdita di tempo né della esperienze reiterate ok ok e adesso chi sei tu ps di rosetta ancora dico ok allora in quanto dio chiamiamo il marito come disincarnati il marito e quel ragazzo morto lo farei lo chiama lì chiama lei quanto dio li chiama lei il ragazzo arriva molto molto terrorizzato con una con ansia e sudante ricca si guarda guarda la sua esperienza e dice sono morto così terrorizzato di paura lo capisce dopo che era assunto la vic se se ed il marito vedo una sorta di potrei dire amnesia da rassegnazione mi viene nel senso che è come se dopo che si è rassegnato al suo destino tra c'è quello che gli è capitato ok diventa quasi si dimentica come mai arrivato lì il percorso che ha fatto quasi da poi trovarsi in questa comfort zone dove sembra quasi tranquillo e sereno in quella zona lì quindi diciamo come come diciamo come protezione sua acquisita dalla vita si racconta di star bene nello stato in cui è ecco e invece non è così no 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 assolutamente no vika anche a lui e dopo che l'assunta messaggio alla moglie vorrei dire tante cose ma dico una in particolare più cercavo di avvicinarmi a te e più mi mi trovavo lontano fino alla distanza massima con la morte alla figlia sei bella segui la saggezza consapevole della mamma basta sì mentre dice sei bello la carezza chiamiamo tutti i disinclanati di tutte le generazioni di rosetta e apriamo un portale aureoli mettiamo ad andare lì dentro come padre ed il ragazzo il ragazzo sia un po ripreso sì 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 se non si riprese con la vita si è ripreso sono 85 ok intanto c'è il portale fatto chiudiamolo ed andiamo con rosetta al cluster ogni vita è un cerchio fatto con i sassi quanti sono i cerchi fatti con i sassi tu e mila domina a sedici meno delle vite qual è l'esperienza contratto che lei sta rimutendo di più per tutte l'immagine che mi fa vedere è scrivere incidere con la pietra l'inizio dell'esperienza di una vita e non poterla cancellare c'è questo significa che significa che è come se lei quando inizia a un'esperienza in una vita ok la ps è come se dicesse io voglio fare questa esperienza soprattutto seguendo uno schema sociale specifico e ogni volta diverso ma prende uno schema sociale e lo segue ed è come se incidendo questa cosa nella pietra anche se diventa consapevole e decide che può essere fatta diversamente non può perché l'ha inciso nella pietra va bene tutte queste belle pietre finiscono in un portale definitivo se lei vuole così si fa l'esperienza dell'annullare tutti i contratti nel cluster si è buttato chiuso portare definitivo all'eterno qua la data novità vi verità so scusa qua sì messi ok avatar come lo vedi allora con le cuffie tipo le nostre per non sentire per non essere distratto da noi che arriviamo e cerchiamo di fermarlo ma io non prendiamo nessuno e rosetta che decide le cose decide delle cose sue e lui cosa sua è una cosa ed è sua sia intanto guarda poi si rimette intento a scrivere su computer blaze si è aperto portale definitivo se come quando si svuota la paletta piena di polvere nella pattu mi recco così non sarà niente più servito adesso non sarebbe niente pattumiera via puntare definitivo lei invece è una creatrice ha delle grandi capacità e delle grandi doti può creare qui due ad eternum gli stessi che ha messo di là li mette anche di qua e poi va a verificare di qua che non ci siano più interferenze di ogni tipo è così assolutamente non c'è più niente eteriche mentali no nelle mentali nelle forme mentali non nelle interferenze mentali c'è la voglia di riprovare una di queste esperienze che ha già fatto come lmt caldo no più che le forme mentali è come se fosse chiuso nel suo caso e vedo negli altri ma nel suo caso come se nel fondo 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 del corpo mentale avesse dei piccoli bauli chiusi a chiave con un lucchetto che contengono i ricordi delle esperienze ricordi che potrebbero se venisse la gala potrebbero agganciare qualche interferenza nuovamente lei deve accorgersi e mandarli via va bene nuova frequenza 368 miliardi nuova consapevolezza 183 anima 61 vite precedenti 1825 e il percentuale di cervello 9.6 messaggio finale di rosetta se stesso ora riparti come se fossi a un piano più alto da un altro piano da un'altra prospettiva poi tutto tu non hai bisogno di niente all'esterno se voglia di fare qualcosa di energetico puoi farlo maniera individuale unito vuole proprio dire unito a qualcosa di concreto e dinamico quindi magari mentre cammini nel bosco mentre pianti una pianta o se mentre fai yoga però yoga dinamico per esempio o qualcosa del genere non so mi è venuta un'immagine di lei che dipinge ma anche di lei in cucina che dipinge in cucina quindi secondo me può essere che si può trovare molto bene a cucinare alzando cioè allenarsi alzare le vibrazioni cucinando oppure dipingendo vedo qualcosa di non lo so mi viene questa cosa qua che vuole dirle un'attività di dove lei che ha a che fare con le persone adulte direi dove è in grado di trasmettere questa sua queste sue capacità di alzare le vibrazioni unite alle esperie le sue esperienze concrete che possono essere amiche all'inizio possono essere un gruppo di amiche ma poi è come se si diffondesse questa cosa però lavoro su di sé farlo assolutamente individuale nel cinema cosa fanno i presenti i due figli mi sembrano sono davanti sono molto contenti di quello che hanno visto e vogliono applicarlo anche loro sono tre allora è allora ho visto 222 davanti e poi c'era tipo un altro più piccolo potrebbe essere un bambino però un po più grande nel senso che lo vedo piccolo ma non è per forza piccolo di età ed è un po più indietro quattro file più indietro che è un po più sulle sue piccolo di consapevolezza esatto sì sì un po più sulle sue quindi non è proprio guardingo ecco ha preso le informazioni ma che lascia lì e l'e come la vedi lei la vedo pronta a è come se si fosse riempita di energia sua per concentrarsi su questo su questo nuovo percorso in autonomia ecco direi così ultima domanda alla ps tu chi sei io sono dio ma ne è sicura sì sì adesso si sa che ci sarà un po di difficoltà a integrare questa sua consapevolezza profonda con allora innanzitutto con la p e e anche con gli altri corpi però è per quello che vede che sarà un percorso molto graduale perché se fosse improvviso tornerebbe nello schema di prima deve integrare molto con la p e ok va bene abbiamo finito